Un saluto agli amici di Unibet Italia, è una settimana campale questa per la Roma, uscita ridimensionata dal punto di vista del risultato, non da quello del gioco a Milano, sconfitta del Meazza contro l'Inter che fa riflettere la Roma tradita forse un po' dal suo portiere e anche, dice qualcuno, dal suo centravanti. Comincia a pesare un po' l'assenza di gol di Edin Dzeko, c'è però l'opportunità di riscattarsi immediatamente per non rimuginare su questa sconfitta di Milano, su questi tre punti persi perché a Roma si gioca domani sera la sua credibilità europea. Vale per il suo allenatore, insomma tre vittorie su 21. Partite giocate in Champions League, un bottino troppo misero per un buon allenatore come Garzia, chiamato ad ottenere questi tre punti, quindi la prima vittoria stagionale contro il Bayer Leverkusen, squadra attrezzata soprattutto dalla cintola in su. Questo ci fa prevedere un'altra partita con il gol, entrambe le squadre a segno ma con l'uno fisso. La Roma deve vincere per sperare e per coltivare ancora i sogni per entrare nelle prime 16 d'Europa, almeno superando questo primo turno, il girone che sembra ancora ampiamente alla portata. La settimana campale perché? Perché arriva il derby e quindi non c'è tempo per essere abbacchiati perché qui con il derby alle porte la possibilità di riabilitare tutto e tutti è sempre dietro l'angolo e poi c'è ancora un assembramento, ancora una situazione molto fluida in classifica per quello che riguarda il campionato. Si inizia dalla Coppa per poi proseguire, ho uno stato d'animo sicuramente più lieve, più leggero in vista della stracittadina. Speriamo ovviamente che questo possa accadere fin da domani, qualche dubbio di formazione dipenderà molto dalla presenza in campo di De Rossi, potrebbe tornare prima del previsto anche Keita. Oggi vedremo le ultime notizie, insomma bollettino dall'infermeria. Per il momento è tutto, è stato un piacere, come al solito un saluto a voi e tutti quanti gli amici di Unibetti Italia. Ciao da Dario Bersani.